E' la prima volta che un italiano entra nel bordo mondiale degli esperti dell'IWBA. Professor Miani, come ha colto questa notizia? Sicuramente in maniera assolutamente favorevole, avevo già una collaborazione in essere con l'International Well Building Institute, sapevo che volevano portare avanti cose anche qui in Europa e in Italia in particolare, e penso che abbiano individuato me, in quanto come presidente sì, ma anche nella mia attività professionale mi occupo prevalentemente di benessere delle persone, di salute delle persone negli ambienti confinati. Un futuro dietro l'angolo ci dicono delle previsioni non troppo felici che causa cambiamenti climatici, se non vi poniamo freno in tempi rapidi ci sarà un spostamento delle persone sempre più verso le città e grandi città, quindi la città dovrà diventare il luogo di massima resilienza ai cambiamenti climatici e quindi anche all'inquinamento atmosferico e gli edifici saranno sempre più popolosi e abitati e quindi dovranno garantire una salubrità tale da mantenere un benessere, una salute appunto delle persone che vi abitano o che vi lavorano. Qual è il suo segno concreto che l'Italia attraverso lei darà a questa organizzazione mondiale? È un apporto sicuramente di ricerca scientifica e di visione complessiva nel senso che noi, io personalmente, ma anche la mia organizzazione siamo stati anticipatori in molti settori che riguardano il mondo del comfort e della salubrità degli ambienti confinati a livello mondo, quindi immagino che continueremo su questa strada, immagino che i VBI abbia interesse nel coagulare attorno a sé persone che hanno capacità di anticipare quello che sarà il prossimo futuro. Ecco, questo è quello che abitualmente facciamo e lo facciamo su base di ricerca scientifica e anche con un minimo di capacità di visione guardando in là. Attraverso una rete internazionale, perché noi non siamo presenti solo in Italia, siamo presenti anche in sei Stati europei e anche negli Stati Uniti, quindi abbiamo una rete della scienza e anche a livello territoriale piuttosto vasta che ci aiuta a tenere rapporti sull'attuale e a fare parte di quei gruppi che prevedono cosa avverrà dopo domani.